Sbagliato che si impara! Non so, non speriamo tanto scuola, è solo sbagliato che si impara! Nessuno non ha s'imparato! Queste sono cose che voglio dire da un po' Poi, bisogna anche fare delle scelte nella vita, per ricordare che si impara, no? Sbagliate! La vita non è garantita! La vita non è garantita, è un miracolo che sia, che esista! Non è una cosa garantita, non fu! Non ve ne può garantire neanche il governo con delle leggi ipotesi e di suicida e di falso! Non ci vogliamo fare forza della nostra libertà! Perché la libertà è una cosa importantissima, perché 50 anni fa i milioni di persone hanno perso la vita per averla! Capito? Sono morti! Sono morti sul serio! Capito? Luca? La libertà è? Il governo è stato morto! La libertà non è una cosa che è acquisita, e ce la abbiamo, e non la toglie più nessun, no? Bisogna difendere tutti i giorni! Tutti i giorni, perché c'è una nuova sempre forte, bisogna ripetere tutti i giorni lontano e siamo pronti anche a sentire i casi e anche a morire. Perché la libertà ha un costo, bravo, 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 ma se non siamo liberi noi non usiamo niente. Se non diamo la libertà noi non abbiamo niente. E il secondo video, l'altro il figlio è un pochino di loro domande che mi ha detto che un pochino è bravo sempre, bravo, sto a parlare di un po' più. E che già nel tempo si sente stranulose le mie peggiorie. Ma se ne è venuto? Ma se ne è venuto? Comunque, si, è finito. Grazie